tu non soffri per causa del mondo quindi soffro per causa mia tu non sei mai arrabbiato per il motivo per cui credi di essere arrabbiato queste interpretazioni olistiche che forse poco hanno in spirituale in realtà sono fondamentalmente interpretazioni abbastanza superficiali di un fenomeno di meccanismi leggermente più complessi se tu soffri perché non hai fatto i compitini spirituali facciamo una cosa torniamo indietro cerchiamo di capire bene come funziona questo meccanismo che ci crea la sofferenza nella nostra esistenza dove per sofferenza si può intendere anche il non raggiungere risultati sperati non raggiungere obiettivi quindi non riuscire a essere semplicemente in pace nella propria esistenza terrena allora da un certo punto di vista è vero che tu non soffri per causa del mondo è vero che tu non sei mai arrabbiato o comunque non soffri per il motivo per cui credi di essere arrabbiato perché sei all'interno di un meccanismo di proiezione ma sotto ci sono tutta una serie di livelli che vanno visti che vanno compresi allora più in generale possiamo dire che i tuoi stati emotivi emozionali non sono causati dall'esterno intanto parliamo degli stati emotivi dolorosi piuttosto che quelli gioiosi che bisogna fare una divisione occupiamoci di quelli dolorosi quali rabbia, tristezza, paura, ansia eccetera ora fuori avviene quello che è l'evento il fatto che possiamo anche definire dinamica cioè quella che vede te coinvolto con qualcosa di esterno dentro avviene l'interpretazione dell'evento o del fatto e che secondo un po' quelle che sono le correnti religiose o spirituali un po' più famose ma anche ultimamente nelle correnti più avanti diciamo nel mondo psicologico dicono l'interpretazione dipende da noi quel noi è tra virgolette però perché il nostro conscio cioè l'io conscio è dall'1 al 5% al massimo la maggior parte sono informazioni inconsce quindi l'educazione familiare traumi infantili, neonatali, adolescenziali informazioni epigenetiche che arrivano dal bacino familiare quindi ci potrebbe essere ad esempio un irretimento che viene dal prozio che siccome era omosessuale i nostri bisnonni l'hanno escluso dalla famiglia e dal testamento non considerando le informazioni che arrivano anche da altre incarnazioni quindi ci sono tanti luoghi in cui risiedono informazioni che potremmo definire programmanti per il nostro inconscio che se è inconscio come tale noi non le possiamo conoscere quindi sono programmazioni nei sette chakra che arrivano da tutti i vari bacini informazionali tra cui anche l'inconscio collettivo cioè il luogo dove siamo cresciuti la cultura in cui siamo cresciuti e quindi anche quella che è l'educazione che abbiamo avuto familiare ma anche nazionale quindi legata al luogo in cui noi siamo nati ora, secondo il Buddha la sofferenza che spesso noi identifichiamo come karma ma in realtà è solo una parte del karma dipenderebbe specificatamente la sofferenza dal valore che io attribuisco alle cose quindi se ho attribuito un valore negativo a una cosa mi scontro con quella cosa ecco che ciò mi provocherà sofferenza inevitabilmente quindi un'idea conscia inconscia quindi una credenza che io ho registrato da qualche parte che Jung definirebbe ombra interiore quando ci scontriamo con essa realmente quindi da una tematica registrata interiormente attiviamo quella che è una dinamica nel mondo ciò ci va a provocare semplicemente sofferenza quindi secondo il Buddha per come dice nella terza nobile verità cambiando la scala di valori per come la chiama noi dove ciò che più è transitorio è maggiormente desiderabile quindi la classica via del non attaccamento quindi dovremmo ovviamente spostare la nostra scala di valori su ciò che più è universalmente stabile quindi non la bellezza, la fame, il successo bla 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 tutte queste cose l'illuminazione il nobile o tuplice sentiero che declina anche lui retta informazione retto lavoro retto una serie di rette che poi ne vedremo magari in un altro video che non è che vanno male ne ha detto il Buddha vanno benissimo per l'amore di Dio però dobbiamo sempre tenere conto del fatto che la nostra sofferenza dipende dal nostro limitato orizzonte degli eventi cioè il limitato orizzonte sul karma quindi nel momento in cui io non ho contezza del mio inconscio e delle mie reazioni inconsce non posso andare realmente a risolvere quello che è il blocco blocco karmico anche cosa può essere un blocco quello che vogliamo quello che reputiamo come qualcosa che nella nostra vita non riusciamo a realizzare non riusciamo a concretizzare che sia la pace interiore vivere serenamente riuscire a pagare le bollette avere rapporti soddisfacenti riuscire a fare pace con i genitori piuttosto che non farci riconoscere dei genitori l'amore che non riusciamo a conseguire essere sempre lasciati piuttosto che non subire sempre mobbing sul lavoro le dinamiche possono essere qualsiasi cosa che ti venga in mente in questo momento ma se noi non riusciamo ad avere un orizzonte chiaro quali sono tutte le informazioni soprattutto quali sono i traumi genealogici le ferite che possiamo avere e che ci possiamo portare dall'infanzia quindi sia dalle informazioni prenatali in grembo, in utero le informazioni neonatali nei primi tre anni di vita le informazioni infantili fino ad arrivare all'adolescenza quindi laddove si struttura maggiormente il nostro karma quindi la coazione ripetere anche per come l'ha definita Freud e laddove non abbiamo ovviamente contezza di ciò che può essere successo ai nostri avi e che epigeneticamente a livello cellulare noi abbiamo queste memorie nei nostri geni perché noi veniamo da lì così come sicuramente noi non abbiamo memoria dalle nostre altre incarnazioni più vicine a noi che creano frequenza che comunque sono nel nostro bacino informazionale animico quello quindi definito bacino karmico sotto 100.000 vite non tutte ovviamente ci vanno a rompere le scatole ma sicuramente 30-40 vite sì quindi in parte bisogna andarsene a vedere e a risolvere perché ci possono essere delle ferite da tradimento delle ferite da umiliazione delle ferite d'abbandono molto pesanti così come averle anche nell'infanzia e che ci stanno sicuramente sabotando quindi per riuscire realmente ad andare a sbloccare le situazioni incancrenite beh è normale che serva un approccio molto più ampio a 360 gradi e che vada a comprendere tutti i bacini informazionali karmici e che tenga anche conto di come questi poi si riversano nei nostri quattro elementi il nostro elemento terra quindi la parte psicosomatica come stiamo somatizzando sul corpo la parte emozionale quindi come viviamo nelle nostre emozioni la parte mentale quindi le nostre credenze le nostre idee quindi tutto il bacino del pensiero tutto ciò che è registrato nel nostro hardware che in realtà è quasi tutto riscrivibile e ovviamente il nostro campo energetico il nostro campo energetico informato è quello che ovviamente contiene tutte queste informazioni ti invito se ne vuoi sapere di più e approfondire questi argomenti a scrivere a studiosatia.it per vedere il videocorso completamente gratuito che abbiamo registrato per andare ad approfondire proprio come si può riuscire a fare un reale percorso di guarigione interiore che tenga ovviamente conto di tutti questi fattori ti mando un grande abbraccio ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti